Faccerà che dopo di un po' partito C'erano i patti? Sì, sì, è stato fatto un pochino Il procedimento, che cosa? Un po' di ardiente Va bene adesso, vai da riguardare la macchina Ha detto che mi gioca di tagli il corno Sì Vediamo Vediamo come si è composta Vediamo 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 Vediamo